Veneti, abbiamo un'occasione storica per la nostra indipendenza. Il Presidente Zaian ha messo a disposizione un conto corrente dove versare una cifra minima di 20 euro per dimostrare che teniamo veramente la nostra indipendenza. Ricordiamoci che abbiamo da guadagnarsi, abbiamo da meritarsi e questa è un'occasione da non perdere per meritarsi. Veneti, bisogna essere in tanti, non importa cosa che si versa, è importante essere in tanti per dare un segnale forte che vogliamo la nostra indipendenza.